ciao a tutti sono norenzo e oggi ci beremo un caffè assieme sigla eccoci qua amici oggi vi spiego come fare un ottimo caffè prendiamo questa caffettiera in alluminio da tre tazze che per me è una dose abbastanza sufficiente apriamo la confezione questo non serve questo neanche caffettiera in alluminio tre tazze abbiamo detto importante come primo utilizzo la laviamo molto bene poi facciamo una sola acqua non mettiamo ancora il caffè facciamo bollire l'acqua la facciamo uscire poi facciamo altri due caffè questa volta e li buttiamo via la macchinetta è pronta per essere utilizzata questo procedimento serve a tirar via il gusto metallico che può restare nella macchinetta appena comprata dopodiché possiamo bere un buon caffè proviamo cominciamo a vedere come si fa intanto sviluppiamo la parte sotto filtro e qua metteremo l'acqua allora mettiamo l'acqua fino a metà di questo filtrino qui che lo spiato per l'aria mettiamo l'acqua fino a metà poi filtro mettiamo dentro e mettiamo questo buonissimo caffè mi raccomando mettiamo il caffè fino all'orlo e senza pressarlo che non serve a niente chiudiamo chiudiamo la macchinetta pronti qua con il nostro forno e il letto e adesso aspettiamo qualche minuto e vediamo perfetto eccolo qua signori un ottimo caffè fumante mettere degli dei grazie per aver visto il filmato vi aspettiamo qui dagli orifer quando volete buona giornata e buon caffè ciao 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 ciao